Il display è fermo a 6.350 ma attualmente siamo già a 6.590 iscritti, quindi altri 240 iscritti anche in questa settimana, siete veramente fantastici, stiamo crescendo tantissimo ogni giorno. Quindi andiamo avanti ancora a questo display qua, 8 e 9, perfetto e adesso andiamo a nominarvi tutti quelli che hanno compilato il modulo che si trova in descrizione, vi ricordo ancora. Ho dovuto prolungare ancora un bel po' l'isola e mi ha richiesto veramente davvero tanto tempo, più di 2 ore sono stato a farmare alberi e prolungare l'isola, quindi presto non aggiornerò più l'isola con gli alberi ma utilizzerò i libri come vi avevo già preannunciato tempo fa, andrò ad aggiungere i vostri nomi in dei libri e salutarvi in quel modo lì. Quindi adesso raggiungiamo la fine di quest'isola qua e vi nomino tutti. Ok, rieccoci qua, atterriamo perfettamente in questo punto e dovrebbero iniziare dagli alberi. Guardate intanto i nuovi biomi che stiamo scoprendo, siamo arrivati nella taiga dovrebbe essere, ci sono anche dei cani che magari potremo utilizzare per qualcosa. Allora intanto iniziamo subito con nominarvi tutti, il primo è questo qua, sì giusto. Abbiamo francesco romeo, bruno fiorentino, phi cubes o f3 cubes, giuseppe di somma happy youtube, joelle gre o gr3, ok. Pool06, pepper, gabriel4forever, sigma, goku super saiyan 960, angelo de maggio, abbiamo stefano 3000, mattia dove, street slab, sti quares, ok. xstorm7, daniel3faz, florinestate, ok. ladybatterfly, marco youtubegamer, lollo girola, lorenzo, andrea2013383, ok. alessandrofranco7, riccardo floreno, poi c'è garena and g de angelis, omega2003, rollo tech, giacomo, gibe, jeffery, ale ruf, lorenzo, un altro lorenzo, abbiamo ne passato uno prima. poi c'è stefano dolci 03, matteo 05, giova 02, davide mercoledì santo, ok. quechi, poi c'abbiamo pier ita, rappulcio, poi c'è alessio spettro wgf, stripy it's my life, ok. e lucino ilsb, perfetto. passiamo anche da questa parte adesso. ci abbiamo two player pro, ok. luli, poi c'è teo matteo youtube, il ragazzo meraviglia, ok. filippo mike, il potterhead, tessi sogni, poi c'è il miz, lucky lucas, ok. mark de gaming, michele rossetto, antonio boss, killgamer89, samuele e matteo borghese. michael stramaglia, ok. just edoardo, zgolden, eli and poly. poi c'abbiamo golden aureum, dragonfirex24, giugamer16, diego dagani, samu116, mnl, ok. carbonton, casarotto, france, ok, dovrebbe pronunciarsi così, the ghost, herni24, sciocco, ok. saraxbomber10, aoig, ok. ruben pescarolo, antonio88, dami02, albem04, mattias, pietrigno, abbiamo sheldon cooper, ok. davide olivieri pennesi, poi c'è daniel zadra, ok. pipino05 e jagogamer, ok. benvenuti anche tutti voi nell'idolo degli iscritti e grazie per esservi iscritti al mio canale. vi ricordo se altri di voi vogliono essere inseriti in questi giorni qua, basta compilare il modulo che si trova in descrizione. quindi come sempre questo video può finire qui, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, io come sempre sono Suriv, ciao a tutti!